Il tampone è sempre un'altra infermera C'è interessa che ha caricato il naso E' scomparso Era andato via tutto Ed era sempre un'infermera Sì, sì Però dovresti accadirlo Adesso posso farmi pagare un'altra Perché non senti neanche loro No, adesso era andato via Tutto a me Non ho credo No, è dipendente E' un'altra infermera Ma te lo poniamo praticamente dalla radio E della scocche Che mi sono portato a casa Prima o poi quando vorrai te lo darò Perché a questo punto Va bene Comunque adesso spostati per favore Perché a proposito di viaggi Di nostri ascoltatori Torna anche l'idea di viaggi in giro Noi abbiamo Un nostro agente viaggi particolare Che si è anche decisato